Avvocato Fanueli, il real estate sembra essere un settore definitivamente ripartito, ecco, lei pensa che sia così e cosa vi aspettate per quest'anno e per il prossimo anno? Sì, assolutamente, dopo qualche anno di stanca, è già da due o tre anni che è ripartito in maniera significativa, ci aspettiamo un anno buono, come gli ultimi due, e è sicuramente un grande interesse degli investitori internazionali che sono tornati prepotentemente sul nostro mercato e credo per rimanerci, anche in virtù di tanti strumenti nuovi che gli permettono investimenti interessanti e forme di investimento molto attraenti. Grazie Avvocato.